Il decreto esce per fine mese, dovrebbe uscire il 28 e siamo convinti che la buona scuola esista già ma non è diffusa sul territorio nazionale, per cui su tutto il territorio nazionale non tutte le scuole riescono ad avere quegli strumenti da consentire loro di essere veramente buone. Il decreto esce ed esce proprio per cercare che il piano di assunzioni che noi avevamo previsto possa diventare una realtà dal primo di settembre del 2015. I mille saranno lanciati il 22 a questo grande evento che il Partito Democratico sta organizzando sulla scuola che si terrà al Tempio di Adriano dove sarà presente il presidente Matteo Renzi. E' stata una sua idea ed è quella di coinvolgere persone che poi credano in quello che stiamo scrivendo nel decreto e che possano rilanciarlo all'interno delle scuole, anche raccogliendo quelli che potranno essere ulteriori contributi, anche migliorativi. I mille sono reclutati tra tutti coloro che vogliono partecipare a questa sorta di grande ulteriore campagna, tanto che il Partito Democratico ha già mandato in giro una serie di segnalazioni che vanno a ricomprendere un po' quelli che ci hanno dato una mano durante la grande campagna di ascolto e le persone che abbiamo contattato. Non me ne sto occupando direttamente io perché mi sto occupando in maniera particolare di tutto quello che riguarda l'alternanza scuola-lavoro e la formazione iniziale insegnanti. La maggior parte di quelli che hanno voluto partecipare con noi anche durante la grande fase della campagna di ascolto erano insegnanti, dirigenti scolastici, gente vicinissima al mondo della scuola. Personalmente ne ho incontrati tanti, ad alcuni ho suggerito di mandare la loro candidatura per i mille e non è detto che siano tutte persone legate solo al PD. È chiaro però che già nella fase di preparazione del decreto c'è stata la grande partecipazione frutto della campagna di ascolto. Non è un caso che la quota del cosiddetto 66% sullo scatto di merito sia stata bocciata già a metà della campagna di ascolto e quindi sia stata tolta, eliminata. Rimane il concetto della valutazione ma non su quella modalità che era stata considerata fallimentare. Noi abbiamo sempre detto che volevamo eliminare la cosiddetta graduatoria ad esaurimento trovando poi delle soluzioni e stiamo ancora ragionando su queste per consentire al numero più alto gli insegnanti che noi riteniamo preparati, che si trovano in seconda fascia, che hanno fatto un lungo percorso di abilitazione in parte basato anche sull'esperienza come i pass ma anche basato su delle selezioni molto forti come quelli che hanno sostenuto i TFA. Non che i pass non siano stati selezionati perché hanno portato avanti anche a loro delle fatiche che sono notevoli, frutto però di un'incapacità di una politica precedente di gestire in maniera razionale quelli che dovevano essere i corsi di specializzazione per gli insegnanti, per consentire loro l'abilitazione. E' chiaro però che rimane fermo un punto al momento e che in Italia si entra in ruolo attraverso il concorso. Allora un ragionamento che noi stiamo facendo è quello di consentire al numero più alto di insegnanti i cui posti non saranno coperti tutti dalle graduatorie ad esaurimento perché ci sono cattedre talmente vacanti che quindi ci potrà essere spazio per loro di accedere dalla seconda fascia. Nell'attesa del concorso, un concorso però che possa anche valorizzare l'esperienza di chi è abilitato attraverso un TFA o attraverso un PAS. Questo per noi è importante per non buttare alle ortiche un lavoro serio e qualificato che loro hanno fatto e che noi gli riconosciamo. No perché noi abbiamo ritenuto come punto fisso che lo scatto di anzianità potesse rimanere però diciamo una cosa in più che non può essere che la carriera di un insegnante si basi solo sull'anzianità di servizio. Stiamo facendo tutta una serie di ragionamenti per fare in modo che l'anzianità insieme poi ai titoli che una persona ha acquisito durante il suo percorso possano avere un peso diverso ma un significato complessivo di valore. E se tutti sposano questo vuol dire che noi andremo verso una scuola che sarà sicuramente più di qualità. Lo sappiamo, ce lo dicono gli stessi insegnanti, non siamo tutti uguali. Beh io non so che cosa, su quali conti hanno fatto visto che il decreto non è pronto e sono conti basati ancora sul cosiddetto 66% che non c'è più per cui i conti fatti sulle ipotesi non funzionano. Allora attendiamo. E io rimango a vostra disposizione, grazie.